perché sono sicura che tu hai una bellissima casa, ma abbiamo scoperto che è sempre più frequente che si affittino garage e addirittura cantine o vecchi negozi che vengono poi ristrutturati come abitazioni. Vediamo questo servizio di Maria Giovanna Lorena. Una sara cinesca che si alza, dietro però non c'è una vetrina, o meglio non c'è più. Qui dove lavorava un parrucchiere adesso abita Giulia con la sua famiglia. Chiamatelo Negozio 2.0 o più semplicemente casa. Che ambiente c'era qui? Era retro bottega e adesso come potete vedere ha la nostra cucina invece. Avete dovuto sacrificare qualcosa? Assolutamente no, è una cucina completissima, abbiamo tutto quello che ci serve, perfino un po' di dispensa e un piccolo sgabuzzino lì dietro. Invece questa era la stanza principale del negozio e adesso è diventata la stanza principale di casa nostra e soggiorno. Cosa c'era qui? Era un parrucchiere, quindi da questo lato c'erano degli specchi dove si facevano pettinare le signore e da questa parte c'erano invece i lavabi dove si facevano lavare i capelli. E qui c'era la vecchia vetrina? Sì esattamente, questa era la vecchia vetrina che è diventata la nostra finestra principale. Qui in quanti vivete? Io, mio marito e mio figlio e quattro gatti. Il vecchio scantinato ora ospita una camera, bagno e lavanderia. Ancora più ampio l'ambiente è ottenuto con un soppalco. Prima utilizzato come magazzino per il vecchio negozio è stato ingrandito e ora è dedicato alla zona notte e c'è spazio anche per un altro bagno. Quanto avete ricavato? Circa 130 metri quadri commerciali e 110 calpe stabili. Abbiamo dovuto pensare delle soluzioni un po' alternative, particolarmente abbiamo usato tantissimo il vetro per non bloccare la luce, quindi per esempio questo pavimento in vetro piuttosto che la parete stessa del nostro soppalco o del bagno che sono completamente in vetro, delle lastre enormi. Una sistemazione curata in ogni dettaglio, moderna e funzionale e pensare che tutto era nato come una soluzione di ripiego. Non avremmo mai potuto permetterci un appartamento di 130 metri quadri. Quanto avete pagato? Ci è costato molto di meno a livello di costo per metro quadro, circa 2200 euro al metro quadro rispetto a un 4 mila. Abbiamo fatto la richiesta per il cambio d'uso ad abitazione, quindi a tutti gli effetti un'abitazione e più c'era un piccolo problema di altezza del soppalco che era già in corso di condono che quando noi siamo entrati è stato condonato dal comune. Nessun problema. Soddisfatti della trasformazione? Innamorati della casa direi. Il vecchio proprietario aveva completato tutti i passi burocratici pur di trovare nuovi acquirenti e d'altra parte in questi casi anche per chi compra o affitta l'affare non manca visti i prezzi più bassi rispetto alla media degli appartamenti. C'è anche chi si accontenta di spazi più ristretti. Ecco più lontano dal centro come è stato trasformato un vecchio garage in un mini loft, 50 metri quadrati, pronto ad essere abitato. Prezzo 2.900 euro al metro quadrato contro i 3.200 delle abitazioni nella stessa zona. E di questo argomento parliamo con l'amministratore delegato di Immobiliare.it, Carlo Giordano, che saluto in collegamento da Milano. Buongiorno Carlo Giordano. Buongiorno. Dunque queste ristrutturazioni sono frutto della crisi perché non si sarebbe mai pensato, penso vent'anni fa, di andare ad abitare in un vecchio negozio, in un ex garage. Assolutamente sì. Nasce probabilmente da due esigenze che convivono. Come diceva il servizio, la persona che cerca casa vorrebbe trovare una casa all'interno del centro urbano a un prezzo molto o ragionalmente più basso di quello che è la media del mercato. L'altra che è nascente è il proprietario. Il proprietario che generalmente nel passato era per lui semplice affittare il negozio al piccolo dettaglio, il verduriere, il pescivendolo, la piccola merceria. E oggi con la crescita della grande distribuzione questa richiesta di questo tipo di negozi sta veramente riducendo. E quindi il proprietario si trova con l'immobile non locato. Certo, c'è stato un meno 12% nelle locazioni dei negozi al dettaglio. E quindi molti locali si trovano liberi e sono a disposizione. Ma mi chiedo, l'abitabilità in questo tipo di strutture come si ottiene? Perché molti sono con poche finestre o addirittura senza. È possibile viverci? Dipende ovviamente dall'immobile. Il punto vero è che generalmente comunque hanno uno spazio che è il cortile. Quindi essendo tutti immobili lato a strada hanno poi come spazio di visibilità o di luce non sulla strada ma il cortile interno. E oggi nelle case vecchie sono cortili leggermente tenuti bene, belle, con delle piante. Però non è un punto da sottovalutare perché tipicamente il proprietario o il venditore l'argomento ha come passo facile, scontato, normale. In realtà le regolamentazioni sono proprie di ogni comune, quindi non c'è una regola che vale per tutta Italia. E sovente c'è un piccolo passo, anziché trasformarlo in residenziale, trasformare il negozio che è classificato C1 in loft, che è un nome un po' romantico per definire i laboratori con la permanenza delle persone. Che ci tratta? Il loft mi fa venire in mente delle bellissime abitazioni che abbiamo visto sulle riviste di arredamento new yorkesi, però ristrutturate da fior di architetti che con la loro abilitari escono a fare degli ambienti straordinari, anche da una vecchia fabbrica o da locali dismessi da molto tempo. Qui ci vuole anche una consulenza dunque di un arredatore di grido. Voi la fornite? Beh, quello è verissimo. Poi veramente siamo abituati nel nostro immaginario ai film americani dove il loft è sempre uno spazio eccezionale. In realtà ci sono alcune avvertenze che vanno chiarite. Il loft non è un immobile a destinazione d'uso residenziale, quindi piccoli problemi, muto prima casa non si può prendere, residenza teoricamente non si può prendere. Poi è vero che è un fenomeno che è un po' scappato di mano. Solo nella città di Milano ci sono 34.000 immobili classificati C3 dove alla fine le persone ci vivono quotidianamente. Quindi C3 sarebbero appunto i negozi, i garage, piano terra o addirittura quelli interrati? I C3 sarebbero laboratori, che è il nome italiano del loft. C1 sono negozi, i garage sarebbero C6. Sono una famiglia comune, quindi muovere la destinazione d'uso all'interno di questa famiglia è relativamente facile. Molto più difficile portarli da categoria C a categoria A, che è risidenziale. Ma di questo passo non è che finiremo per abitare le cantine? Beh, generalmente le cantine vengono riabbinate al piano strada per fare l'area notte oppure il disimpegno. Quindi le cantine sono già riutilizzate con attenzione e con determinazione. E questo ci dà il senso della difficoltà per alcuni di trovare una collocazione abitativa. Ci dà un po' l'idea dei prezzi? Naturalmente noi vogliamo parlare solo di quelli puliti, trasparenti, non in nero. Sì, corretto. Dividiamo i due grandi gruppi. Quello che è un immobile, che ha già avuto una variazione della destinazione d'uso e quindi è già a tutti gli effetti un'abitazione. Allora lì tipicamente il risparmio è più nel fatto che è a piano strada. Però rimane un risparmio significativo, nell'ordine del 15-20% rispetto a un immobile per fare il confronto al primo piano. Gli grandi affari invece si prendono, ovviamente nella visione poi della nostra utilizzo dell'immobile, quando l'immobile è ancora un negozio, piuttosto che un garage, piuttosto che un punto simile, una soffitta. Ovviamente lì hai tu l'impegno di renderti conto della fattibilità di trasformarlo, oppure decidere che tu l'utilizzerai nella tua destinazione d'uso, che sono scelte non sempre facili. Ma il mediatore immobiliare di solito si provvede anche a fornire i permessi all'ASL, al comune, oppure ci deve pensare chi affitta o compra? Divido subito il tavolo tra chi affitta e chi compra. Chi affitta purtroppo c'è un cattivo uso italiano è che si offre un grande risparmio rispetto a un affitto convenzionato andando a abitare nell'immobile che non avrebbe l'abitabilità e magari facendo pure l'affitto in nero. Questo è un cattivissimo uso che tipicamente approfitta del bisogno delle persone che cercano un affitto a un canone basso. Per la vendita il mediatore ci deve assolutamente aiutare a comprendere cosa è possibile, se nello stesso palazzo sono già successi trasformazioni delle stazioni d'uso, cosa prevede la normativa del comune, però ovviamente le pratiche poi sono a carico del nuovo proprietario. Noi abbiamo parlato finora di locali piano terro addirittura interrati, però c'è un grande uso anche dei sottotetti e delle mansarde che vengono trasformate in abitazioni. Là forse, magari l'estate è difficile con il caldo, diventano roventi, però forse è più suggestivo. Devo dire che la trasformazione della soffitta in mansarda e nelle grandi città, Milano e Roma, è ormai un dato avvenuto, concluso e certo. Si sta replicando nelle altre grandi città italiane, ovviamente per il bisogno di spazi che c'è. Tipicamente la mansarda ha due svantaggi. Quello che accennava lei, temperature d'estate e d'inverno non sempre così facili a gestire, quindi costo del riscaldamento, della climatizzazione, e manca magari l'ascensore al piano perché arriva al piano sotto e poi l'abilitabilità dello stesso immobile per i tetti spioventi non è così facile. Però una nuova coppia o il single ovviamente è una situazione che per lui non è così di disagio ed è finalmente una casa. Io le faccio una domanda che esula dal suo lavoro. Nel tempo libero lei legge, dottor Giordano? Certo, caspita. Poi ammetto che venendo io dal mondo della New Economy pian pianino sto abbandonando un po' il libro per utilizzare il tablet, però la lettura rimane una cosa nostra. No, ma noi andiamo a parlare di un libro che ormai ha 40 anni, quindi forse lei l'ha letto non sul tablet ma sul cardaceo.